Il gruppo Trasporti Torinese è nato il 1 gennaio 2003 dalla fusione di ATM, l'azienda torinese mobilità, e SATI, la società torinese trasporti intercomunali. È una società per azioni di proprietà della città di Torino e si occupa di trasporto pubblico locale e più in generale di gestione della mobilità. Il gruppo è organizzato in quattro divisioni, holding, trasporto pubblico locale, metroferro e infrastrutture di ingegneria, da cui dipendono i diversi servizi erogati. Il presidente del gruppo è Giancarlo Guiati, mentre l'amministratore è delegato Tommaso Panero. Il gruppo gestisce la rete urbana e suburbana di Torino, tra cui la linea metropolitana 1, 8 linee tram e circa 100 linee autobus. La rete extraurbana, con 70 linee autobus per 3.600 chilometri, e la rete ferroviaria, con due linee in concessione per 80 chilometri di rete propria. Il servizio di trasporto pubblico locale fornisce attraverso bus e tram il servizio di trasporto urbano e suburbano a Torino e in altri 25 comuni. GTT gestisce inoltre a Torino 50.000 posti auto nell'area centrale di Torino ed ha anche 19 parcheggi a barriera o in struttura. Il servizio ferroviario, composto dalla Ferrovia Canavesana e Torino Ceres, copre 33 comuni nella provincia di Torino.